1928 il gran consiglio del fascismo diventa organo costituzionale del regno d'italia 1987 inizia la prima intifada palestinese 1990 polonia prime elezioni dirette l'ecvaguenza capo di solidarnosc eletto presidente commenta il fatto del giorno marco tarquinio direttore dell'avvenire sulla morte definitivamente separato franco franchi e ciccio in grassia hanno litigato molto nella loro vita si sono rincontrati di loro resta una risata che ci accomuna